Due capannoni industriali adibite ad autodemolizione e autolavaggio completamente abusivi in quanto privi delle prescritte autorizzazioni di smaltimento acquerefluo e recupero rifiuti pericolosi e quanto scoperto dalle fiamme gialle del comando provinciale di Ragusa. In particolare i finanzieri nell'ambito dei servizi di vigilanza hanno posto sotto sequestro un'area di circa 2000 metri quadrati con all'interno un capannone in cui sono state rinvenute numerose carcasse di autovetture dismesse e innumerevoli parti meccaniche già smontate da motori a sportelli, filtri, ammortizzatori, parti elettriche, catalizzatori, vetri e tanto altro. Inoltre è stato sottoposto a sequestro anche un altro capannone di circa 600 metri quadri con all'interno macchinari industriali per il lavaggio di mezzi pesanti. L'immobile è risultato privo di idoneo impianto di smaltimento delle acque nere e di relativo collegamento alla rete fognaria. Il proprietario dell'area sequestrata è stato denunciato all'autorità giudiziaria e dovrà rispondere di gestione abusiva di impianto di recupero, rottamazione e demolizione di autoveicoli e smaltimento illecito di rifiuti pericolosi.